Abbiamo invitato un esperto di questo settore, l'avvocato Cacciola. Ciao Francesco. Ciao Antonio. Benvenuto qua tra noi. Grazie mille per l'invito. Allora, tu sei titolare insieme a tua moglie dello studio Cacciola Carpentieri? Sì, noi abbiamo un brand che si chiama Debito Bancario. E siete specializzati sul debito nei confronti degli istituti di credito, corretto? Sì, ci occupiamo di debiti con banche e finanziarie principalmente, e di tutte le situazioni che possono sfociare poi nel sovraindebitamento. Abbiamo in Italia 2 milioni di famiglie sovraindebitate che non riescono a pagare le loro scadenze. È drammatico? Sicuramente è una situazione drammatica questa, perché ci sono 2 milioni di famiglie che si trovano in una condizione di sovraindebitamento e ben 7 milioni di persone in questa condizione. Questi sono i dati più allarmanti, però ci sono altre 8 milioni di persone che hanno difficoltà a riuscire comunque a pagare le rate, a stento ci riescono. Quindi si aggiungono altri 7 milioni di persone che sono lì per smettere di pagare o comunque sono in difficoltà. Tant'è che tu hai dovuto costruire uno studio molto grande, siete più di 100 avvocati. Sì, siamo cresciuti molto in questi ultimi anni, in particolar modo dal Covid, in quanto la situazione è peggiorata notevolmente. In primis per le difficoltà lavorative che la pandemia ha portato, perché ci sono state grandi criticità a causa della cassa integrazione che non arrivava mai. Quindi la gente si è trovata magari ad avere difficoltà lavorative e a non riuscire a pagare i propri prestiti. Il vero problema grave che ha sollevato quella situazione è stata che nel momento in cui io non riesco a pagare i miei prestiti, vengo segnalato come cattivo pagatore. Ma magari non riesco a pagare perché non ho avuto la cassa integrazione. Assolutamente, questo è il problema. Per cui io magari non mi arriva la cassa integrazione, non pago, vengo segnalato e dopo non posso più andare a rinegoziare, non posso fare un consolidamento dei miei prestiti. Quindi non riesco più a trasformare il mio debito di breve in medio-lungo periodo e diventa un vortice in cui molto spesso non si riesce ad uscire. Non solo questo infice ovviamente la vita di una persona che si trova in un vortice negativo devastante per alcune famiglie, magari gli imprenditori riescono, però poi le famiglie sono quelle che soffrono di più, ma questo blocca anche l'economia, non è una cosa che vantaggia l'economia ovviamente. Assolutamente no, cioè è una cosa che va proprio a discapito dell'economia. Consideriamo sempre in quel periodo ci sono state delle misure prese dal governo che hanno permesso la sospensiva per le aziende, però non è stato fatto tutto ciò anche per le famiglie. Per cui fondamentalmente ci siamo trovati che da un lato c'erano le imprese che magari avevano tutto bloccato e in quel momento è stata una cosa utile per cercare di far ripartire il paese. Dall'altro lato invece non è stato preso nessuna misura, nessun provvedimento per aiutare chi magari aveva il finanziamento che non riusciva a pagare, è stato rimesso tutto alla buona, alla coscienza della finanziaria diciamo, che magari sospendeva per tre rate ma applicava comunque interessi. Quindi tante famiglie si sono trovate in difficoltà. Poi non dimentichiamo che dopo subito la pandemia c'è stato anche l'aumento dell'inflazione a causa della guerra. L'energia che ha aumentato. Assolutamente. E soprattutto sono aumentati anche i tassi di interesse. Per cui adesso stiamo riscontrando tantissime famiglie che a causa del mutuo a tasso variabile non sono riuscite più a pagare e si stanno ritrovando a subire pignoramenti anche degli immobili. Tu Francesco sei stato, sei uno studio molto importante, oltre 100 avvocati, molto strutturato, avete organizzato veramente un bel lavoro perché dovete far fronte a più di 7 milioni di persone e quante pratiche avete in gestione attualmente? Tante. Ogni anno aumentano sempre di più. Fondamentalmente, grazie anche al tuo aiuto, diciamo soprattutto nella fase iniziale per strutturare il tutto, siamo riusciti a trasformare un'attività professionale in una realtà, diciamo, aziendale, preimprenditoriale. E quindi riusciamo sempre di più a aiutare diciamo alle oltre 10 mila persone che ogni mese ci contattano per richiederci anche una consulenza perché abbiamo tantissime richieste, diciamo, di consulenza mensilmente proprio derivanti da problematiche sia delle famiglie ma anche delle imprese che comunque stanno avendo delle difficoltà notevoli anche perché le misure che sono state utili durante il periodo pandemico tipo anche i prestiti con la garanzia del medio credito sono diventati poi un boomerang perché fondamentalmente se in quel momento hanno permesso alle aziende di rimanere in vita oggi alcuni settori hanno comunque difficoltà di andare avanti a causa dei debiti pregressi per cui anche quei finanziamenti prevedono in caso di mancato pagamento le segnalazioni ovviamente bene o male la segnalazione come cattivo pagatore è l'impossibilità di accedere al credito per un dipendente è sicuramente un danno ma diciamo tutto sommato accettabile se uno si trova in difficoltà per un'impresa no molto spesso no perché purtroppo la maggior parte degli imprenditori che fa accesso agli istituti al credito bancario e quindi agli istituti di credito usa la leva finanziaria utilizzando la leva finanziaria non è pronto poi a perderla e quindi questo comprometterebbe la produttività la capacità dell'azienda di portare avanti assolutamente una sfida produttiva in questo momento ci sono 99.000 aziende che rischiano il default siamo in una situazione veramente grave ecco perché tu lavori così tanto perché io ti conosco bene e so che oltre ad avere 100 legali tu ogni giorno rispondi ad alcune di queste 10.000 richieste di consulenza mensili sei stato premiato da Forbes come studio legale dell'anno in particolare sul debito bancario e tanto altro insomma anche le fonti award ti ha premiato l'anno scorso se non mi sbaglio corretto? Sì siamo stati varie volte premiati come eccellenza in questo ambito dalle fonti poi siamo stati inseriti nei 100 professionisti di rilievo in Italia nell'ambito degli studi legali e poi siamo stati inseriti anche tra gli studi dell'anno del sole 24 ore fantastico ma io ti chiedo questo non semplicemente per far capire con chi stiamo parlando una vera celebrità e lui per rispondere a tutta questa necessità ha fatto anche tantissimo marketing e oggi sei famosissimo sui social sei uno dei legali più famosi dei social ma questo ti serve ad aiutare le persone e questo ti ha portato anche a parlare avere la possibilità di interloquire con il senato e il Parlamento su questi temi quindi sei protagonista attivo diciamo di prospettive di mutamento delle leggi sul sovendebitamento corretto? Assolutamente sì abbiamo cercato di aiutare e stiamo continuando a farlo anche coloro i quali non si rivolgono direttamente a noi e il modo migliore per poterlo fare ovviamente è cercare di modificare fare delle proposte di legge che possano permettere a chi si trova in difficoltà di uscire da questa condizione di difficoltà in particolar modo le nostre proposte sono state mirate a migliorare la condizione di chi si trova proprio in una condizione di sovendebitamento di sovendebitamento totale senti Francesco tu conosci bene quindi questo argomento lo conosci molto bene probabilmente conosci anche già qualche cosa futuribile ma parliamo del presente ci sono aziende e famiglie sovendebitate quali sono i loro diritti prima di tutto voglio partire da qui dopodiché voglio capire come ci si deve difendere anche da attacchi aggressivi perché ci sono istituti di recupero credito che lavorano in maniera onesta ma ci sono anche istituti che non seguono il codice deontologico in questi casi cosa è accettabile cosa non è accettabile proprio per dare informazioni ai nostri telespettatori imprenditori e anche famiglie che possono trovarsi in queste situazioni partiamo dal primo punto il primo punto è il punto più semplice in cui si trovano persone che magari non hanno ancora uno stato di sovraindebitamento avanzato e si parte dal fatto che magari non si riescono a pagare le rate dei finanziamenti nel momento in cui non si riesce a pagare la rata c'è diciamo il contatto delle società di recupero crediti che hanno un codice dentologico dovrebbero rispettarlo purtroppo in alcuni casi questo non succede e quindi magari iniziano a tempestare di telefonate la persona con effetti emotivi e psicologici anche importanti e ovviamente diventa essenziale conoscere i propri diritti bravo e noi abbiamo scritto anche un libro proprio su come difendersi dalle società di recupero crediti e in più ci sono tantissimi video perché al momento siamo oltre 15.000 video che ho fatto online divulgativi dove indico come andarsi a difendere in questi casi in queste situazioni per quanto riguarda il discorso delle società di recupero crediti no però aspetta siamo qua e mi devi dire quali sono i diritti dell'imprenditore perché voglio saperli possiamo andare anche ad approfondire sicuramente andremo a approfondire cosa c'è ma voglio capirlo anche io qual è il mio diritto se io sono solo indebitato cosa devo fare e cosa devo sapere sulla mia situazione allora per quanto riguarda la questione del recupero crediti la cosa fondamentale il diritto è quello di essere contattato in maniera moderata non può essere chiamato tre volte al giorno perché si entra nel reato di stalking in quel caso di notte di notte festivi non si può non si può essere contattati sempre così come nel momento in cui vengono diciamo uno si trova a non pagare per tre o quattro orate potrebbe succedere che viene un esattore domiciliare questa persona non può spiattellare la tua situazione di debito a tutti quanti addirittura è capitato una volta che una persona diciamo che poco informata che faceva questo lavoro mettesse un cartello sul portone che era pubblico ovviamente violando gravemente la privacy ovviamente dopo una telefonata subito fu rimosso perché si capì che aveva fatto un errore molto grave così come praticamente molto spesso contattano i vicini i parenti addirittura una volta c'è capitato di che venisse contattato il bar del paese della persona è un paese piccolino dove questa persona lavorava in una farmacia quindi renditi conto della gravità anche della situazione c'è un impatto che si può avere sull'abitare la persona sociale socialmente quindi ci sono tanti diritti per quanto riguarda il fatto che anche quando uno è debitore deve essere comunque seguito un protocollo che è mirato a diciamo a recuperare il credito perché è anche giusto che se uno ha fatto dei debiti è giusto che provida a pagare ma se la condizione economica di questa persona è cambiata e consideriamo che ci sono tantissime motivazioni serie che possono portare una condizione economica a cambiare non per forza per colpa ad esempio una separazione una malattia la perdita del lavoro tutte le persone che ci contattano sono persone nella stragrande maggioranza dei casi sono persone per bene che vogliono risolvere altrimenti non ci contatterebbero quindi noi cerchiamo di trovare degli accordi che siano sostenibili in base alle nuove condizioni economiche in cui versa la persona questa è la cosa fondamentale per quanto riguarda il discorso delle aziende quindi oltre a recupero crediti io ritengo che ci sia anche diciamo il diritto della persona di poter pagare in base alle proprie possibilità certo soprattutto in questi casi se adesso sono in difficoltà pago ma pago il sovraindebitamento nasce proprio con questo principio vieneva chiamata anche legge anti suicidi proprio per aiutare le persone che si trovano in quella situazione lì e che cosa prevede di base prevede che se uno si trova in una condizione di sovraindebitamento e non riesce a far fronte con le proprie entrate e i propri debiti ha la possibilità di ridurre drasticamente i debiti e pagare una rata sostenibile in base alle sue possibilità perché tutti quanti hanno diritto a una vita dignitosa questa è la cosa base per quanto riguarda le imprese ovviamente anche in quel caso lì ci dovrebbe essere per tutto l'aspetto delle segnalazioni una maggiore moderazione perché andare a segnalare un'impresa anche che magari non si trova in uno stato di sofferenza acclamato avanzato significa molto spesso la morte di quella impresa e la morte dell'impresa significa che vengono persi anche i posti di lavoro quindi è una si vengono a creare delle conseguenze a catena devastanti che devono essere tutelate con atteggiamenti moderati e ovviamente la disponibilità delle brave persone ed è piena l'Italia di brava gente che proattivamente magari vuole recuperare questa situazione debitoria ma pagando una cosa sostenibile assolutamente immaginiamo che mi trovo in questa situazione qual è la prima cosa che devo fare mi sta chiamando un istituto di credito tampinandomi cosa posso dire per farlo per far moderare i toni prima o poi seconda cosa cosa devo fare io per uscirne più velocemente possibile o minimizzare i danni allora la tecnica che consiglio per quanto riguarda il fronteggiare la società di recupero crediti è quello di capire con chi si sta parlando perché molto spesso chiamano con dei numeri anonimi per cui io devo dire è legale questa cosa diciamo che non è una questione di legalità o meno è una questione che se tu tratti i miei dati ho necessità di capire chi sei se sei autorizzato o meno quindi la cosa migliore da fare è dire voglio sapere lei chi è nome, cognome, codice fiscale e con quale società lavora perché molto spesso si fingono avvocati e anche lì è un reato fingersi avvocato oppure praticamente dicono di lavorare con la determinata finanziaria invece non è vero perché lavorano con una società di recupero crediti in quel caso quando uno e poi l'altra cosa importante si può dire guardi io registrano la telefonata in questo modo qui se dall'altro lato c'è una persona seria che non fa nient'altro che il proprio lavoro che è quello di cercare di recuperare allora darà tutte le informazioni nel momento in cui invece ci fosse qualcuno che vuole con dei metodi particolari cercare di far pagare la rata altrimenti non guadagna la sua percentuale siamo sicuri che in questo modo qua sicuramente non vorrà andare avanti con la telefonata perché se io la vado a registrare lui mi dà tutti i suoi dati ovviamente dobbiamo considerare che se questa persona dovesse fare minacce tentativi di estorsione dovesse inventarsi delle cose potrei andarla a denunciare anche perché il reato è personale quindi se individuo la persona fisica non l'azienda se individuo la persona fisica che l'ha commesso io posso andarla a denunciare quindi se uno ha delle intenzioni strane sicuramente la telefonata verrebbe interrotta ma io dipendente di un'azienda di recupero crediti che fa un atto del genere l'azienda non è passibile certo per la 231 ovviamente l'azienda deve anche l'azienda è passibile in quanto io posso segnalare questo comportamento tranquillamente e ovviamente loro prenderanno delle contromisure è capitato tantissime volte con dei comportamenti completamente scorretti e l'azienda per dissociarsi ha eliminato il rapporto di collaborazione con quella gente del recupero crediti ad esempio e questo è quando riguarda il recupero poi per quanto riguarda magari le rate non pagate dopo che uno viene contattato ci sono in genere dopo 4, 5, 6 mesi dipende poi dalla banco finanziaria la risoluzione del contratto ovvero viene chiesto l'intero importo in un'unica soluzione ma io non ce l'ho non posso valere però c'è la possibilità di trovare un accordo per ridurre la rate in maniera sostenibile ovviamente che cosa significa in quel caso che se io dovesse avere più finanziamenti non ha senso andare a chiudere uno male con una rate insostenibile perché poi dopo ci sarebbe un effetto a catena devastante quindi bisogna analizzare prima tutta la situazione capire dove potersi spingere con ogni banca finanziaria e fare un piano di sostenibilità e quindi trovare i vari accordi questa sarebbe la soluzione stragiudiziale che è anche quella più semplice è più economica è anche più economica laddove ciò non fosse possibile perché magari la persona ci ha contattato già che aveva un'azione legale o magari già aveva un pignoramento se c'è un'azione legale tipo un decreto ingiuntivo c'è la possibilità vedendo la documentazione se ci sono i presupposti anche di opporsi al decreto ingiuntivo per prendere un po' di tempo e trovare poi un accordo laddove invece ci contattasse qualcuno con già delle trattenute pignoramenti altre cose in quel caso se ci sono i presupposti il sovraindebitamento può essere una manna dal cielo non in tutti i casi in alcuni sicuramente sì quali casi? allora immaginiamo senza entrare troppo nei decreti immaginiamo la persona che senza colpa si è indebitato e ha già tante trattenute esempio 150.000 euro tra cessione delega pignoramenti altri finanziamenti non c'ho casa di proprietà oppure ho una casa che vale poco tipo 30, 40, 50 meno dei miei debiti ho la possibilità in quel caso di ridurre drasticamente il debito eventualmente anche salvare la casa evitando l'alternativa liquidatoria si dice perché il sovraindebitamento prevede che io possa vendere beni per liberarmi se il bene però è inferiore diciamo ai miei debiti e comunque io dovrei andare da qualche altra parte a vivere ho la possibilità di dire giudice è inutile che me la fai vendere a 50 te li do io in un lasso di tempo in base alle mie possibilità se vendo la casa a 50.000 euro sotto un ponte se mi consente di pagare solo 50 sui 150 li pagerò in 20 anni no 10 anni in genere potrebbe essere una tempistica media quella dei 10 anni e si potrebbe tenere così come è successo a tanti nostri clienti che molto spesso ci contattano con situazioni critiche dove però non vogliono perdere l'immobile allora se l'immobile ha un prezzo accettabile e ovviamente anche la rata che uscirebbe diventa sostenibile in base alle proprie entrate questo è essenziale e non c'è colpa nell'indebitamento si può tranquillamente mantenere la casa ad esempio un nostro cliente è un infermiere 360.000 euro di debiti aveva contratto totale aveva una casa che è stata stimata 80 abbiamo chiuso 80.000 euro totale tutti i debiti pagando a rate in 10 anni quindi lui ha salvato la casa ha salvato la casa ok questo però sta avendo un impatto su chi il debito il credito ce l'ha cioè la banca la finanziaria che ha salvato il credito che fine fa che perde tutti questi soldi allora all'interno quello è il rischio aziendale anche delle finanziarie il problema dove sta che alcune finanziarie molto spesso sono la causa del sovraindebitamento generalmente per considerare una persona diciamo regolare dal punto di vista creditizio non si dovrebbero superare il 30% delle rate dello stipendio la montata della finanziaria non verifica che siamo sotto il 30% ha sbagliato la finanziaria eh sì perché molto spesso capita in particolar modo con una finanziaria con una banca che arriviamo esempio stamattina proprio mi è capitato di parlare con una persona 1700 di stipendio con una banca 1100 di rate come facciamo solo di finanziamenti allora in quel caso la sola banca che ha dato 1100 euro di rate ha stabilito 1100 euro di rate con questa persona l'ha sovraindebitato quindi molto spesso questa finanziaria o questa banca sono molto disponibili a venire incontro poi anche con una definizione stragiudiziale magari sono in difetto sono in difetto per questo motivo qua e preferiscono quando uno lo va a contestare magari vendere il credito anziché fare un'azione legale certo su questo aspetto della vendita dei crediti si apre poi lo scenario di cui prima tu parlavi che è la cosa che io reputo più critica in assoluto dell'indebitamento sia delle imprese ma in particolar modo anche delle famiglie la situazione più critica si viene a verificare quando uno ha un mutuo che non riesce a pagare si perde la casa all'asta e si rimane senza casa eppure con il debito il problema qual è stato ed è stato anche il motivo per il quale abbiamo iniziato un'attività incestante anche istituzionale parlando con la maggioranza e con l'opposizione per cercare di modificare questa legge sul sovraindebitamento ci sono dei fondi speculativi americani che stanno acquistando il credito ipotecario degli italiani perché le ipoteche sulle case italiane valgono un sacco di soldi non solo come le case americane di cartone e di legno su case vere valgono e soprattutto si mettono di traverso quando ad esempio c'è la persona che ha quella determinata casa ma magari ha altre case oppure magari c'ha il garante che ha delle altre proprietà con l'obiettivo di fare cosa? di espropriare di quella proprietà quindi quella persona perde quell'immobile dopo loro mandano comunque un credito e attaccano i garanti le altre proprietà senza cercare di venire incontro e questa è una cosa veramente molto grave perché fondamentalmente gli italiani sono conosciuti per avere patrimonializzato nell'arco degli anni effettivamente questi fondi stanno cercando di puntare proprio su questa cosa e noi stiamo cercando di lottare in tutti i modi anche migliorando la questione sovraindebitamento proprio per contrastare questi comportamenti che sono dal mio punto di vista non giustificabili cioè perché va bene guadagnare ma non andare a speculare così tanto su chi già sta in difficoltà sulla vita della gente tu sei stato al Senato sei stato al Parlamento ce l'hai detto parli con le opposizioni con i governi hai qualche anticipazione c'è qualcosa qualche prospettiva futura di cui possiamo parlare? Allora stiamo lavorando abbiamo fatto già tante proposte e abbiamo fatto delle proposte per quanto riguarda la questione del sovraindebitamento per dare delle tempistiche certe per fare in modo che tutti coloro i quali vengono nominati gestori abbiano una tempistica dentro la quale devono depositare l'attività svolta perché molto spesso veniamo contattati da persone che hanno la casa all'asta magari da tre mesi quattro mesi e quindi lì diventa un problema se anche l'organismo che si occupa di queste cose ci impiega un anno perché se quello in quattro mesi deve risolvere come facciamo? E quindi quello è un aspetto altra cosa fondamentale queste procedure sono comunque relativamente costose stiamo chiedendo diciamo anche in tal senso una riduzione anche dei costi per permettere sempre più persone di poter aderire aderire addirittura per alcune classi sociali diciamo per alcune tipologie di lavoro avevamo chiesto anche un contributo statale cosa che in alcune regioni viene fatto diciamo per alcune tipo per esempio per persone che si sono indebitate a causa della ludopatia quindi si dovrebbe stendere altra cosa fondamentale che oggi purtroppo è molto discrezionale è che un tribunale decide in un modo un tribunale in un altro però in ogni città ci possono essere delle discrepanze ci dovrebbero essere dei requisiti più oggettivi ovvero una tempistica se la tempistica a Napoli è dieci anni dovrebbe essere anche a Roma dieci e no magari a un'altra parte sette anni otto anni e quindi questo va a generare comunque un'incertezza e magari è più fortunato chi vive a Torre del Greco rispetto a uno che vive a Milano e non è giusto questo comunque non è giusto siamo diventati tanti stati non più un solo paese e poi dal punto di vista delle imprese stiamo facendo dovremmo avere un nuovo appuntamento sempre in senato con una conferenza stampa in cui andremo a parlare di tutte le criticità che stanno vivendo le aziende come ho detto prima quasi 100.000 aziende si trovano in una condizione di default e stiamo andando a cercare di proporre delle cose sempre per aiutare coloro i quali si trovano in difficoltà con i prestiti del medio credito centrale con le cartelle esattoriali perché anche lì c'è un grandissimo problema con l'agenzia delle entrate e riscossioni dove ci sono 1.100 miliardi di euro di debiti di cartelle esattoriali allora in questo caso qua così come ho fatto anche nell'ultima conferenza stampa a cui ho partecipato in senato ho ritenuto io ritengo che sia indispensabile una nuova pace fiscale cioè pure in quel senso questa dovrebbe essere una prossima prospettiva secondo te questa è una soluzione una soluzione sì perché allora noi dobbiamo aiutare le aziende a ritornare sane sì e soprattutto a trasformare il debito di breve periodo in un debito di medio e lungo periodo solo in questo modo si può andare avanti e si può andare a tutelare il tessuto delle PM italiane che poi è il tessuto principale che mantiene l'Italia che mantiene l'Italia senti Francesco io apprezzo la passione lo sforzo l'impegno che ci stai mettendo per sostenere le famiglie e le imprese in questa situazione così gravosa quindi ti ringrazio a nome di tutti i nostri telespettatori e ti ringrazio per essere stato qui hai 100 collaboratori soltanto tra i regali stai sfruttando le opportunità che dà l'intelligenza artificiale per gestire un'impresa così così complessa oppure non ancora? assolutamente sì stai già iniziando? per forza già abbiamo iniziato un po' di tempo fa non sarebbe possibile immaginare di strutturare un'azienda senza l'intelligenza artificiale e poi fondamentalmente ci sono anche tanti contributi crediti di imposta che aiutano che aiutano in tal senso proprio per migliorare i processi e diciamo essere sempre più competitivi sul mercato sono contento che lo conosci perché così chi ci sta ascoltando apprezzerà anche il fatto che noi la prossima puntata parliamo proprio di intelligenza artificiale con un esperto di questa materia quindi non mancate la prossima puntata in cui affronteremo il tema dell'intelligenza artificiale e come utilizzarla nelle imprese come già sta facendo il nostro amico Avvocato Cacciola grazie Francesco io ci attendo dovremmo